Noto soprattutto per aver prestato la voce a Leonardo DiCaprio dal film Titanic in poi. Incluso il suo sosio è apparso nel film Paparazzi di Neri Parenti. Doppiandolo in dialetto ciociaro, tra i suoi doppiaggi più importanti ci sono quelli di James Van Der Beek nel ruolo di Dazon Larry. Nella serie tv da Zonescreek, Aiden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars. Episodio secondo l'attacco dei cloni e Star Wars. Episodio terzo la vendetta dei Sith. Norman Redus nel ruolo di Daryl Dixon in The Walking Dead. Tom Beck in squadra speciale Cobra 11 e Aaron Paul come Jesse Pinkman in Breaking Bad. Ha anche doppiato Nelson Muntz nella sedicesima e diciassettesima stagione dei Simpsons Kevin in. Ed è di The End Eddie. Era stato sostituito da Paolo Vivio per doppiare il personaggio di Nelson. Dalla diciottesima stagione. E da Gianluca Crisaffi per doppiare il personaggio di Kevin. Dalla sesta stagione. Nel luglio 2004 ha vinto il premio Leggio d'Oro Voce Rivelazione dell'Anno per il doppiaggio di Leonardo DiCaprio in Titanic. Nel luglio 2013 ha riconquistato il Leggio d'Oro. Questa volta nella categoria Miglior Interpretazione Maschile dell'Anno. Sempre per il doppiaggio di Leonardo DiCaprio in DiGiango Unscende i Grande Gatsby. È la voce ufficiale per i promo di Radio DJ dove ha preso parte ad alcune puntate di Chiamate. Roma 3131. È lo speaker del canale televisivo Rai 1.